Ecco parlando proprio dell'importanza della scelta del brano nei confronti di un artista da parte del giudice se da una parte ho detto che Emanuele Agnelli ha sbagliato secondo me la scelta della maggior parte degli artisti questa cosa non si può dire di Eraton nei confronti soprattutto di Casa di Lego perché è chiaro che quando hai un talento del genere io ho detto sempre che devi gestirlo bene e devi proteggerlo ed è ciò che ha ripetuto Emma tra l'altro in lacrime e lei Casa di Lego ha un'emotività, un talento pazzesco e soprattutto quando deve cantare una cover cosa di più importante è che trovare una canzone di un artista che sia proprio simile a lei e Billie Eilish secondo me è proprio la versione internazionale di Casa di Lego e quindi di conseguenza secondo me non è servito neanche tutto questo impegno perché è chiaro che lei, quindi la scelta è stata giusta adattata lì il risultato cosa può essere se non emozione con un brano del genere con un artista del genere come Casa di Lego quale può essere il risultato? Semplice che hai la pelle d'oca, che la ascolti col cuore in mano e che qualcuno si commuove punto è matematica, non c'è altro da aggiungere per questo io prima facevo tutti i discorsi in altri pezzi di quanta sperimentazione nulla sia stata fatta presso a ragazzi eccetera cioè non c'è molto da sperimentare quando bisogna andare sulla semplicità, sull'emozione appunto questa è una ragazza intensa questa è una ragazza che ha una voce che ti tocca al cuore tocca corde dell'animo umano che partono dall'infanzia e arrivano fino alla fine e di conseguenza bisogna solo dargli canzoni coi coglioni serie A affinché che siano da tramite, che portino la sua voce ad arrivare alle emozioni delle persone e questa canzone era perfetta come una qualunque canzone di Billie Eilish ne ha fatte parecchie così soprattutto perché racconta la sua età certo che è una lingua diversa dall'italiano ma comunque il concetto è quello ed è il racconto perfetto delle emozioni di una giovanissima ragazza che adesso si trova su un palco importante, per Billie Eilish è il palco del mondo perché è un'artista a livello internazionale affermata per Casa di Lego si chiama questo palco X-Factor ma comunque non cambia perché lei era quello che era prima di X-Factor ed è quello che sarà dopo X-Factor e in questa occasione ha avuto perfettamente l'opportunità di raccontarci se stessa attraverso il brano di qualcun altro e quindi io faccio in primis davvero i complimenti al giudice non perché sia questo fenomeno nel preservarla ma perché ha fatto la scelta giusta cioè se tu hai un tot di giocatori perfetti metti quelli in campo non vai a mettere un difensore in attacco questo è il concetto il secondo complimento, in verità il primo più importante va a Casa di Lego ma io ho sempre parlato bene di lei che dire, talento pazzesco spero davvero che non si perda in questo mondo di merda che si chiama industria discografica spero che vada avanti che affronti ogni cosa e che uscita da qui stravenda stravenda proprio come a dire sì, la qualità può pagare spero che Casa di Lego faccia la differenza perché è la differenza spero che sia